Sono molto arrabbiato con Roberto Recchioni perché il Dilan di DilanDog401 non è il mio Dilan e nonostante questo mi piace un sacco questo numero Buon salve e bentornati su No Mamamazzo Oggi parliamo di DilanDog666, la nuova collana, la nuova testata che rilancia il personaggio di DilanDog La frase che ho detto all'inizio Mi auguro che sia quella che sentirà di più Recchioni in questo periodo Nel senso che gli auguro che non ne senta di peggiori Perché da eoni e eoni eoni di mesi i fan duri e puri criticavano l'andamento che aveva preso DilanDog Perché non era più il mio Dilan, non era più il Dilan di quando ero giovane, non era più qui, non era più là E qua ragazzi non ci sono mezze misure, potete dirlo tranquillamente perché è vero Questo DilanDog va a partire dal 401 non è più il vostro DilanDog Non è più il DilanDog che siamo stati abituati a leggere dal numero 1 del 1986 fino al numero 400 È un DilanDog diverso e non mi riferisco solo al fatto che ha la barba e che ha un cappotto e non ha più la giacca Perché si vede che anche se il freddo c'è là dentro, magari anche un pochino fuori aveva freddo E che non c'è più l'assistente Graucio, te possino Roberto, ma c'è Gnaghi Ci sono altre cose, altre cose è da ormai io che ho letto in anteprima il numero 399 e il numero 400 a ottobre E diciamo, anzi a novembre perché ero a Lucca Diciamo che è da novembre che sto aspettando con ansia questo nuovo DilanDog per capire cosa si è salvato del vecchio DilanDog Cosa c'è di nuovo E sono rimasto molto stupito Devo dire che nonostante i miei timori più profondi si siano rivelati reali Questo numero non mi ha deluso Anzi, devo dire che è un numero uno, perché così chiamiamolo È un numero uno di una nuova saga Che è scritto veramente bene Ha delle, al di là delle migliaia di citazioni che sono tipiche dello stile di DilanDoghiano E dello stile di Roberto Recchioni Ha comunque delle citazioni anche narrative sia allo stile di Tiziano Sia in altre scene mantiene il ritmo da, appunto, da serie televisiva Che è tipico dello stile di Recchioni Quanto meno dello stile di Recchioni su DilanDoghiano I disegni sono ancora di Corrado Roy Questa volta, dall'inizio alla fine Sono tutti di Corrado Roy che Con il suo stile artistico Soprattutto in certe scene Ci porta quasi in una dimensione onirica Non capiamo qual è la realtà e qual è l'incubo Anche se è tutto reale Qua non ci sono viaggi mentali come nel Quattrocento Questa è una storia che sta realmente accadendo E devo dire che rispetto al numero uno Del 1986, per carità, con i mezzi che c'erano, eccetera Però rispetto al numero uno Lo stile di Corrado Roy in una storia zombie Si presta molto di più Quindi anche grazie al disegnatore È quasi meglio dell'alba dei morti viventi Che comunque come numero in sé Lasciando perdere che era il numero uno Ma come numero in sé Non era poi sto grandissimo capolavoro Era un numero d'esordio Che presentava al personaggio, l'antagonista I comprimari In una tipica storia autoconclusiva Che poi si è avuto successo, tra l'altro Nelle storie successive Qua invece devo dire che se il numero uno è questo Promette molto, 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 molto bene Ora io non so come andare avanti in questo video Senza rischiare di fare anche un minimo spoiler Quindi se non ne volete sentire di spoiler Vi consiglio caldamente di correre in edicola Di prendere il vostro bellissimo numero 401 Leggerlo, farvi una vostra idea Farvi una vostra opinione Tornare qua Finire di vedere il video e commentarlo Così ne parliamo nei commenti tranquillamente Inizio a parlare liberamente adesso Come se anche voi lo aveste già letto in questo momento Spoiler tra 3 2 1 Allora parliamo un attimo dell'aspetto puramente commerciale di questo fumetto È a tutti gli effetti Un reboot fumettistico Cosa significa? Che tutto quello che c'è stato Dal numero 1 al numero 400 È, pare, da quello che si può evincere da questo singolo numero Pare che sia stato resettato in un certo senso Perché? Nel numero 400 Quando nel finale appunto si vede questo nuovo Dylan Dog Con la barba che mette sulla porta indagatore dell'incubo E ha un nuovo assistente che è Gnaghi Che viene dal romanzo e poi film della morte e dell'amore E non è Graucio Marx Storico assistente di Dylan Dog Si poteva pensare di tutto Si poteva pensare che appunto Graucio fosse sparito Fosse arrivato Gnaghi Ma si poteva anche pensare che il Dylan Nonostante l'aspetto diverso Fosse lo storico Dylan Che cambiasse totalmente registro E che, non lo so, dopo un lungo silenzio Ritornasse a fare l'indagatore dell'incubo Invece no Quella scena che abbiamo visto di lui che appende la targhetta indagatore dell'incubo Alla porta È la prima volta che lo fa Questo qui è a tutti gli effetti un Dylan Che non ha il passato Del nostro Dylan senza barba Così per capirci meglio È un'operazione questa Che se voi siete avvezzi un attimino al fumetto americano Si addice un pochino di più Allo stile della DC Comics Che con i suoi vari Appunto, ne ho parlato anche nel canale Crisi sulle terre infinite Crisi di qua, crisi di là In un certo senso appunto Rebutta la sua continuity Fumettistica principale Dando delle nuove origini ai suoi personaggi A differenza invece della Marvel Che quando fa un nuovo rilancio editoriale Si limita a dare delle storie nuove Fresche Che non subiscono il peso delle vecchie storie Ma senza annullare le vecchie storie Dove invece ha fatto la Marvel Questo rilancio totale dei propri personaggi Che non avevano assolutamente a che fare Con le origini classiche Ha semplicemente lanciato un nuovo universo Che era l'universo Ultimate Che poi, vabbè, hanno chiuso Però è durato diversi anni Ha avuto un discreto successo E in questo universo Ultimate Ha creato nuove versioni Dei propri personaggi principali Con delle nuove origini Con delle nuove interazioni tra di loro E ha creato questo nuovo bacino d'utenza Di nuovi lettori Mantenendo comunque la sua testata principale Con la storica continuity Anche se appunto la testata principale Le testate principali Marvel Hanno questa sorta di onda Che va e che poi ritorna Dove tutto cambia Ma tutto resta immutato Quando appunto ho visto Che questo era un nuovo inizio Ho supposto Ho sperato Che fosse una sorta di rilancio In stile Marvel Dove ci fosse appunto Un nuovo Dylan Dog Non vincolato a tutti i vecchi crismi Che si erano cristallizzati Nel vecchio Dylan Dog Ma che comunque mantenesse fede Alla propria storia narrativa Alle proprie origini E invece è stato un vero e proprio rilancio E' come se questo fosse un Dylan Dog Ultimate Infatti qua lo hanno chiamato Dylan Dog 666 Cosa ha fatto Labonelli? Cosa ha fatto Roberto Recchioni? Non ha lanciato una nuova testata Che si chiamasse Dylan Dog 666 Per continuare Con il Dylan Dog classico Nella testata principale E credo che per questo motivo Molti fan dei primi numeri 100 Lo odieranno Ma semplicemente ha dato Questa nuova linfa Questo reboot A Dylan Dog Nella saga principale Dal 401 Pur lasciando vive Le altre testate Le altre testate Dove c'è il Dylan Dog classico Dove c'è ancora l'ispettore Block Che è in servizio Che non è più in pensione E queste testate Hanno ancora vita Sono ancora senza tempo Non si sa se sono nel presente Se sono fossilizzate Negli anni 80 E continuano a essere pubblicate Questo è il Color Fest Così come continua a essere pubblicato Anche la serie Old Boy Dove lì proprio Siamo fermi Agli anni 80 Siamo fermi alle cabine telefoniche Siamo fermi al governo Thatcher In Inghilterra E uno che vuole leggersi Una storia classica Lo può fare Leggendo Il Dylan Dog Old Boy È una mossa Molto Coraggiosa Molto avvincente Ma Credo anche che sia L'unica mossa sensata Anche proprio a livello di vendite Per poter Vendere questo nuovo Dylan Dog Spacciandolo Diciamo come L'attuale Dylan Dog Principale In modo che ci sia Un attuale Dylan Dog Principale E che poi resti Il Dylan Dog Classico Che però Possiamo trovare solo In queste Storie Che non sono legate Alla continuity Principale Anche se ormai La continuity Principale È stata chiusa Nel numero 400 È una mossa Appunto molto coraggiosa Dalla quale Fresco di lettura Mi ci devo ancora Riprendere Però devo dire Che nonostante Io ami Tenere le cose In determinati schemi Quindi questo deragliamento Di Dylan Dog Verso un nuovo incubo Non mi dispiace Non mi dispiace Affatto Ma basta parlare Di editoria Di cose commerciali Parliamo proprio Delle origini Di Dylan Dog Andiamo a Nello spoiler Dello spoiler Allora Innanzitutto Vabbè Chiaramente È ambientato Nel presente È ambientato Nel presente E quindi Dylan Dog Non è più così Restio alla tecnologia Non è fermo Agli anni 80 Con la tecnologia Si vede tranquillamente Che maneggia Un tablet Senza troppo Eremore Senza che Il tablet Si chiami Irma Eccetera Eccetera Che sia L'assistente vocale Usata Dall'assistente Di Dylan Dog Perché Dylan Dog Si rifiuta di usare La tecnologia Semplicemente In una scena Così a un passante Dylan Dog Utilizza un tablet Perché sì Perché siamo nel 2020 E non rompete le palle Si vede che Dylan Dog Dà Un biglietto Da visita Al negozio Safarà Dove c'è Dylan Dog Indagatore Dell'incubo Cramer Road 7 Ancora Cramer Road 7 A Londra E c'è La posta elettronica C'è Dylan.dog Chiocciola Ghostmail.com Ghostmail È in riferimento Alla compagnia Di John Ghost Quindi esiste Ancora John Ghost In questa nuova realtà Ed è ancora Un magnate Della tecnologia Mi fa molto piacere Perché potremmo Rivedere in futuro John Ghost Magari John Ghost È a conoscenza Delle altre origini Di Dylan Dog Dylan Dog Che è Diciamo Morto e rinato Nel 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 400 Dopodiché appunto Questa scena L'abbiamo già vista Anche sul sito Bonelli Nelle anteprime Ho sentito Ho letto Alcuni commenti Facebook Dove diceva Ah sì Il nuovo Dylan Dog È proprio come Francesco della morte C'è Gnaghi Non c'è più Il veliero Ma c'è il teschio In omaggio Al teschio Che fa Francesco della morte No ragazzi C'è il teschio È vero Ma c'è anche Il veliero Quindi Magari Il teschio Semplicemente È un omaggio Un ennesimo omaggio A Francesco Della morte Ma non necessariamente Diciamo Fa Cerca di costruire Il teschio E cerca di costruire Il veliero Probabilmente Il teschio Sembra anche Quasi completo Quindi Probabilmente L'ha finalmente Completato Nel periodo Che ha passato Al cimitero Perché questo Dylan Dog Appunto dicevo Ha delle origini Molto diverse Si sa Che anche Questo Dylan Dog È un ex poliziotto E Roberto Recchioni Ci fa scoprire La sua storia Attraverso La storia Attraverso Il numero uno E lo fa in una maniera Così Bella Così Che ti passa Proprio così Sotto le natiche Mentre lo leggi Mentre tu leggi La storia Che è appunto Reboot Dell'Alba dei morti Viventi Ma scritto meglio Ci sono tutte queste chicche Ah sì Allora quindi Ah allora quindi Dylan È stato un poliziotto Sì Dylan è stato un poliziotto Dopodiché È andato via Dalla polizia Però prima di diventare Indagatore dell'incubo Ha passato un periodo Al cimitero Come guardiano del cimitero Così com'è Francesco Della morte E lì ha conosciuto Gnaghi Quindi è come se Questo nuovo Dylan Dog 666 Sia appunto Una fusione Di questi due personaggi Anche questo Dylan Compra il clarinetto Al safara Nella sua custodia Esplosiva Però non ha ancora Imparato a suonare Neanche una nota Quindi non sa ancora Fare il trillo Del diavolo Neanche male Poi vabbè ve l'ho detto Già esteticamente Non ha più la giacca Al cappotto Ha una barba folta Non Roberto Recchioni Corrado Roy Fatemelo sapere Ha ancora le Clark Perché mi sembra In una scena Che non abbia le Clark Abbia delle altre scarpe Ma non si capisce molto bene Mi interessa saperlo Se mai dovessi farci il cosplay Ha sempre lo storico Maggiolone Vecchio modello Non vi preoccupate Sempre con la solita targa Dylan Dog 666 Ci sono Vecchi E nuovi personaggi A Scotland Yard Vecchi personaggi C'è sempre Block Nuovi personaggi Ci sono ancora Tyrion Carpenter E Rania Vediamo In questa scena Che Tyrion Carpenter Proprio perché È un reboot Ha ancora Entrambi gli arti Non Non ha più L'arto Meccanico Dopo che gli era stato Amputato In uno degli ultimi Numeri del ciclo Della meteora Sono ancora colleghi L'ispettore È Carpenter E Invece Block Che non è in pensione Ma è ancora attivo In polizia Non è ispettore Ma è soprintendente Quindi è dietro La scrivania E Diciamo Impartisce gli ordini A Carpenter E Rania Questo Sipario Della polizia Composto appunto Da Sia da Carpenter Che Da Block Che da Rania E da Jenkins Che c'è sempre Jenkins Come agente Semplice Che è Diciamo Assistente Di Block Questa dinamica Dei personaggi Di Scotland Yard Mi è piaciuta Tantissimo Mi è piaciuta Sia nelle scene serie Sia nelle scene In una scena finale Proprio da Da ritmo serrato Tipicamente di Recchioni Da serie televisiva Anche si pari O anche abbastanza comico Che serve però Una sua utilità A spiegarci ancora di più Il passato di Dylan Cioè Scopriamo Che Dylan Dog E Rania Sono stati Ex E non intendo Semplicemente Ex amanti Ma sono stati Marito e mogli E voi vi preoccupavate Che sposava un uomo Ha sposato la musulmana Eh Sono Presumo Divorziati O separati Attualmente Rania Frequenta Carpenter Come appunto È successo Negli ultimi numeri Del ciclo Della meteora Dylan Ha comunque Un passato D'alcolista Che poi non ho capito Se è solo un passato O se beve ancora Nel numero Non lo vediamo Bere Ma non lo vediamo Nemmeno rifiutarsi Di bere Quindi Ai posteri L'harduo Sentenza Vedremo nei prossimi numeri Se Dylan è effettivamente Un ex alcolista E Dulcis in fundo Pare Non avere Un rapporto Così Padre figlio Con Block Pare che Il soprintendente Block Conosca Dylan Dog Ma Eh Abbia un rapporto Un po' più freddo Con l'old boy E scopriamo Ma siamo nella parte Spoiler quindi Che ve lo dico a fa Che Ciò È dovuto Probabilmente Anche al fatto Che sono davvero Padre e figlio O quantomeno Dylan Dog Chiama papà Il soprintendente Block Quindi si può presumere Il soprintendente Che il soprintendente Block Eh Abbia adottato Dylan Dog Sempre se Dylan Dog Sia il figlio Di Dylan Senior E di conseguenza Xabaras Ammesso e non concesso Questo Eh Si potrebbe essere Stato adottato Proprio da Block Che appunto Per seguire le orme Del padre adottivo Abbia intrapreso La carriera di poliziotto Si è finito Nell'alcolismo Si sia dato All'esoterismo Si è uscito Dalla polizia Si è andato In questo cimitero Abbia conosciuto Gnaghi Abbia avuto Un'esperienza Stile Della morte Dell'amore E ora Si sta dando A questa nuova attività Che è L'indagatore Dell'incubo Questa è Una ricostruzione Ipotetica Di quella che potrebbe Essere la sua storia Ma potrebbe essere Benissimo Un figlio naturale Di Block Il figlio Che in realtà Nel numero 200 Storico È morto Mentre qui Semplicemente Potrebbe essere Un Dylan Dog Che è stato Ha avuto comunque Un periodo Nelle dipendenze Quelle dell'alcol Ma che non sia morto Ma ciononostante Abbia un pessimo Rapporto con il padre Block Perché no? Lo scopriremo Tutti questi piccoli Dettagli Leggermente Modificati Che potrebbero Far incazzare Un sostenitore Ferreo Dei primi 100 A me Hanno fatto Godere Da morire Ma ve lo dico Ragazzi Io per esempio Adoro Spider-Man Nello Spider-Man Classico Ma ho divorato Ultimate Spider-Man Perché vedere Le carte in tavola Così leggermente Rimescolate Mi ha fatto godere Come un riccio E mi è successa La stessa cosa Con questo Dylan Dog Quindi Se volete Provare a vedere Se queste cose Vi danno La stessa sensazione Continuate a leggere Questa collana Perché potrebbe darci Tante 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 Gioie Mi è piaciuto L'uso Col contagocce Di Xabaras Che Lo intravediamo Appena Nell'obitorio Dove cerca Di dare fuoco Agli zombie Per evitare Che l'epidemia Si diffonda Quindi comunque Appare Probabilmente Vuole cancellare Le tracce Del suo operato Non si sa Però nessuno Lo vede Lo vediamo noi Che siamo I lettori Quindi sappiamo Che è Xabaras Ma Probabilmente Ci aspettiamo La scena Della valigetta Esplosiva Perché la compra All'inizio Del numero Di Landoc Ma tutto questo Non succede Probabilmente Anche questo Proprio perché Noi sappiamo Già la storia Non c'è bisogno Di spiegarla Tutta In un solo Numero Magari verrà Ributtata Rimacata In più numeri Così come hanno fatto Appunto in Ultimate Spider-Man Dove hanno Approfittato Del fatto Che noi lettori Conoscessimo già La storia Della Rampicamuri Per potercela Spiegare Più lentamente In modo più spalmato Su più numeri Se succede questo Ne sarei molto Molto felice Un'ultima nota Prima che questo Cappotto Mi faccia Sudare Di bestia C'è L'unica pecca Che sappiamo Tutti Che manca Grauccio Grandissimo Assente L'assenza di Grauccio Devo dire Non l'ho sentita Tantissimo In questo numero Ma perché davvero Ci sono state Tante cose fitte Che mi hanno Tenuto Con le dita Attaccate Alle pagine Però penso Che alla lunga Mi mancherà Grauccio Io spero Che torni Però Non escludo Niente A questo punto La cosa Che mi farebbe Tristezza È eliminare Un personaggio Così Importante Nei fumetti Perché È imminente L'arrivo Della serie tv Di Dylan Dog Dove però Non si possono usare I diritti D'immagine Di Grauccio Marx Da cui Grauccio Trae Spudoratamente Ispirazione E quindi Spero che L'assenza Di Grauccio Non sia In misura enorme Per questo motivo Non sono Un idiota Sicuramente Questa cosa C'entra Ma spero Che Non lo elimino Non lo eliminino Del tutto Per mettere Magari Gniaghi Nella Nella serie Di Dylan Dog Finalmente Potremmo avere Una serie Di Dylan Dog Ufficiale Fatta bene Con lo stile Di Dylan Dog E non avremmo Il Dylan Dog Che abbiamo amato Per più di 30 anni Ma avremmo Questo nuovo Dylan Dog Che con tutto Il bene Che posso Scusate Ho urtato La videocamera Con tutto il bene Che posso volere A questa nuova collana Cavoli Sarebbe come Uno sgarro Portare Su Una serie tv Direttamente Questa nuova collana Senza portare Quello che c'è stato Nella vecchia Io spero vivamente Che trovino Un metodo diverso Per poter portare Graucio Nella serie tv Per esempio Potrebbero chiamarlo Grucio Come molti di voi Che non sanno pronunciare L'inglese Chiamano Il personaggio Potrebbero Scriverlo Con le due o E pronunciarlo In inglese Grocio Con le due o In inglese È gruccio Come appunto La metà Dei lettori Di Dylan Dog Ha sempre pronunciato Il nome del personaggio Alla francese E si potrebbe Cambiare Qualche cosa A livello estetico Proprio per Sveicolarsi Dal copyright E dal diritto D'autore Io spero Che adottino Questa Di strada Però Staremo a vedere Staremo a vedere Io con questo Vi ringrazio Di avermi seguito Fino a qui Io come sempre Con l'inchino E con l'imbuto Vi saluto E Arrivederci Al prossimo Video